e tu sei diventata non mi importante si in germania se n'è andato quando tu uscisti dal carcere teneva paura di te lavoro dentro una fabbrica difendere te no? ma non parla a me che la storia volesse che non fosse mai capitato succede solo che le cannubulema tutto mi fosse aspettato a te ma non questo se non ti va dimmelo e te ne trova nata lo saccio ma sì tante ho mestiere mio e quando l'avess avresto tizia